Venerdì 1 giugno alle ore 21 presso il centro anziani al progetto gas escese di Preturo si terrà la prima assemblea dell'ASBUC di Preturo. Vista la nuova legge del 20 novembre, la legge 168, che praticamente rimette in ordine gli usi civici nel senso che praticamente l'amministrazione dei beni separati per la prima volta saranno degli enti privati quindi essendo degli enti privati dovranno dotarsi di uno statuto. Questo statuto dovrà essere fatto dall'intera popolazione, da tutti gli aventi diritto per le votazioni. Noi come ASBUC abbiamo intenzione di chiamare a raduno tutti i cittadini di Preturo per parlare del nuovo statuto, per darci delle nuove regole e per l'autodeterminazione dell'ASBUC ci saranno dei cambiamenti che la legge prevede in pratica l'inabilità dei terreni cioè i terreni non possono essere più venduti, saranno sempre di uso civico quindi con una salvaguardia del territorio chiaramente, con una gestione nuova del territorio che oltre all'amministrazione proprio che dovrà gestire con delle votazioni che saranno dotate dallo statuto però l'Assemblea deciderà insieme all'amministrazione di come gestire il territorio quindi è una legge rivoluzionaria che cambia completamente il modo di gestire gli usi civici.